In piazza Papa Giovanni XXIII numero 25 dal dottor Giuseppe Giannone ginecologo fino all'8 luglio donna uguale disagio mai più. Che vuol dire? La società italiana di uroginecologia ormai da anni ha condiviso e appoggia e organizza questa giornata mondiale sulla salute della donna per divulgare il problema delle patologie legate al perineo e cioè dire il prolasso e l'incontinenza urinaria. Il prolasso e l'incontinenza urinaria sono delle patologie che affliggono la donna per moltissimi motivi e pertanto è necessario sensibilizzare le donne sia ad una prevenzione di questa patologia sia per il fatto che se questa patologia dovesse insorgere oggi esistono possibilità terapeutiche sia mediche che chirurgiche che riabilitative. Ecco il significato di questa giornata per cui si pubblicizza questo evento per sensibilizzare le donne che esiste un problema sia di prevenzione che di terapia e pertanto noi organizzeremo questa giornata, questo periodo di visite gratuite per sensibilizzare, spingere le donne verso una migliore qualità di vita. Possono venire tutte le donne? A che ora possono venire? Devono prenotare o possono venire direttamente? E' meglio prenotare lo 0934 59 6200 il pomeriggio dalle 16 in poi.